Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta al prosciutto e formaggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, scamorza tagliata a cubetti, crescenza o stracchino, prosciutto cotto tagliata a cubetti, olio evo, acqua, sale e parmigiano grattugiato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e il sale. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta l'olio e il prosciutto e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 9 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. In una ciotola capiente mettere lo stracchino la scamorza. La pasta è cotta e con tutto il liquido di cottura versarla sui formaggi. aggiungere il parmigiano ed amalgamare bene con la spadola. Impiattare e servire. Pasta, prosciutto e formaggio. Grazie e alla prossima ricetta! Pasta, prosciutto e formaggio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!